Fiesta, questo è il titolo italiano-spagnolo di questo romanzo, mentre il titolo originario è diverso. Ecco, Fiesta e il romanzo, dice una edizione un po' vecchia, della generazione perduta. E qui ritorniamo sul discorso che abbiamo fatto la volta scorsa, quando abbiamo fatto la volta scorsa intendo dire però circa un mesetto fa, quando abbiamo fatto la recensione del libro Festa mobile di Ernest Hemingway. E infatti lì ho esplicitato che questo termine di generazione perduta era stato dato ad Hemingway e ai suoi amici da Gertrude Stein, un intellettuale che si trovava a Parigi. Parigi rappresenta la libertà, è un mondo quindi al di fuori di ogni restrizione, proprio negli anni in cui c'era il proibizionismo in America e in altre parti d'Europa comunque si soffriva un regime più oppressivo. Ecco, Fiesta è anche la prima dichiarazione d'amore di Hemingway alla Spagna. Lui adora la Spagna, adora il mondo spagnolo, le tradizioni, la cultura spagnola e questo lo approfondiremo, senz'altro. Ah, ecco, infatti il titolo originario di Fiesta è The Sun Also Rises, Il Sole Sorge Ancora. È praticamente il primo romanzo di Ernest Hemingway, l'ha scritto e pubblicato nel 1926. Utilizziamo delle slide che abbiamo trovato in rete di Aleksandra Kaminsky, però poi dopo ovviamente abbiamo aggiunto anche delle nostre slide per completare e approfondire il discorso. Ecco, come sempre le mie recensioni sono praticamente delle lezioni scolastiche, questa è un po' la caratteristica. Se vi piacciono delle recensioni più corte, trovate molte altre in rete. Invece la recensione di un libro non è altro per il professor Gaudio che è l'occasione di parlare di letteratura, di storia, di cultura in generale, anche addirittura di geografia, vedremo oggi. E quindi prendetemi per come sono, con tutti i pregi e eventualmente anche i difetti, se ce ne sono. Ernest Hemingway è nato il 21 luglio del 1899 a Oak Park in Illinois, United States. A 17 anni iniziò la sua carriera di scrittore in un giornale a Kansan City, quindi nel 1916. Si aggregò ad un'unità di ambulanze e di volontari nell'esercito durante la prima guerra mondiale, cosa che ha ispirato il romanzo Addio alle armi, anche questo l'abbiamo già recensito. Negli anni venti si unì a un gruppo di americani espatriati a Parigi, e questo è l'argomento principale di questo romanzo e di quello autobiografico, postumo, insomma, fattamobile di cui abbiamo già parlato, che abbiamo già introdotto in un'altra occasione. Nel 1921 divenne corrispondente europeo per il Toronto Daily Star, quindi per un giornale canadese. A Parigi incontrò il poeta Ezra Pound, ne abbiamo parlato più diffusamente, vi ricordate, insomma, la società dei poeti che, per esempio, permise a Thomas Stern Elliot, Elliot, di lasciare il suo posto di lavoro, qui era costretto a stare per sostentarsi, e di diventare poeta a tutti gli effetti, come professione. La scrittrice Gertrude Stein, di cui abbiamo già parlato, quella che ha coniato il termine di generazione perduta. Gli artisti Pablo Picasso e Jean Miró, questo non è tanto presente in questi due libri, però, ecco, dovete tenere presente che Hemingway non solo incontrò tantissimi letterati o poeti, incontrò anche tantissimi artisti in quegli anni felici, vissuti, negli anni della sua giovinezza, a Parigi. E molte altre persone di origine straniera come lui. Il suo romanzo Fiesta, Il sole sorgerà ancora, pubblicato nel 1926, lo ha accreditato come uno degli scrittori più importanti dei suoi tempi, cioè, è il primo romanzo, è quello che gli ha dato fama, è stato un buon successo. Nel 1937 Hemingway si recò in Spagna per scrivere articoli sulla guerra civile spagnola per la North American Newspaper Alliance. In realtà poi partecipò anche alla guerra civile, sostenendo i repubblicani contro i franchisti. E questo ispira ovviamente il romanzo Per chi suona la campana, che sarà uno dei prossimi, non immediati, tra un po'. Il prossimo romanzo che io recensirò si chiama Gli occhiali d'oro di Giorgio Bassani. A Hemingway piaceva scrivere di soldati, di cacciatori e di toreri, e vedremo soprattutto i toreri nel caso di questo romanzo Fiesta. Il suo forte consumo di alcol aumentò i suoi problemi di salute e lo scrittore iniziò a soffrire di sbalzi di umore dopo un incidente in Africa e con tutte queste conseguenze di una vita un pochettino sregolata e del sovraconsumo di alcol, che questo sì è ben presente, molto ben presente nel romanzo Fiesta, ecco tutto questo lo portò a morire suicida. In realtà qualcuno ha ipotizzato che si sia trattato di un incidente. Lui si trovava lì con un fucile, tra l'altro lui era un cacciatore esperto, e secondo alcuni gli è partito il colpo per sbaglio, e questo colpo gli ha traforato il cervello. Però diciamo che la maggior parte degli studiosi e dei commentatori ritiene che si sia trattato di un suicidio. Il 2 luglio 1961 a Ketchum, Idaho, lui muore quando io sono appena nato, ho un mese e mezzo di vita. Opere famose di Anne Stemmingway, tutti i racconti, tantissime raccolte, la prima del 1925, In Our Time, nei nostri tempi, e poi tante altre raccolte, 49 racconti, eccetera. Poi resta appunto il primo romanzo, Addio alle armi, il secondo romanzo del 1929, anche se si riferisce a un periodo precedente, Avere e non avere del 37, perché non ha la campana del 40, Il vecchio e il mare del 52, Festa mobile del 64. Abbiamo già detto, un romanzo, insomma, postumo, uscito postumo, scritto però sempre sullo stesso periodo della sua permanenza, in Francia. Cosa ne pensa dei ragazzini che usano i monopattini? Un pericolo è anche degli spostamenti eco-friendly. Bene, è un off-topics, e quindi sicuramente i monopattini possono essere qualcosa, se sono elettrici, magari di ecologico, però occorre seguire le regole del codice della strada, altrimenti succedono degli incidenti, ahimè, piuttosto che una certa frequenza. L'adesione di Hemingway al modernismo. Il modernismo in letteratura lo conosciamo in arte, con Gaudi, Antoni Gaudi per esempio, ma c'è anche il modernismo in letteratura, un movimento teso a modificare le pratiche artistiche, per esempio, o anche le credenze tradizionali. Si sviluppò dalla fine del XIX secolo alla metà del XX secolo, in particolare negli anni successivi alla Prima Guerra Mondiale, quindi successivi a 14-18, quindi appunto gli anni venti, per esempio gli anni, insomma, del nostro romanzo Fiesta. Il modernista Hemingway iniziò a sperimentare e a giudicare il modo in cui funzionava la società e trovò delle modalità narrative, anche artistiche, completamente diverse rispetto al passato. Per esempio, per quanto riguarda lo stile, lui in un certo senso seguiva una specie di teoria dell'iceberg, nel senso che nei suoi testi troviamo solamente i dialoghi, o poco più, insomma, mentre tutto quello che spesso in tanti altri romanzi è esplicito, quindi i sentimenti, i sensi, i dolori, i turbamenti, i pensieri, insomma, tutto il subconscio rimane sommerso, implicito, non detto, non esplicitato nei suoi romanzi, che quindi hanno un aspetto molto secco, diciamo così, molto scarno, se vogliamo. Quali sono le tematiche principali che si trovano nei romanzi di Hemingway e in particolar modo anche nel romanzo di Fiesta. L'amore, sicuramente. E qui parliamo di Ashley Brett. La guerra, l'abbiamo vista di più in Addio alle armi, effettivamente, o la vedremo di più per chi suona la campana. La natura, senz'altro. Poi, lo smarrimento. Ecco, questa generazione, effettivamente, è anche una generazione di uomini smarriti, dopo la Prima Guerra Mondiale. La donna, la morte, e questa c'è, c'è anche nel nostro romanzo. E poi, l'impotenza. Questa è una sensazione, quella di impotenza, che provarono molti uomini dopo la Prima Guerra Mondiale. Ciò che accade a Jack, che, come dire, ha un infortunio di guerra, esattamente come Ernest Hemingway. e poi va per essere curato in un ospedale di Milano, esattamente come Ernest Hemingway. E lì incontra una bellissima infermiera, esattamente come Hemingway, e come anche il protagonista del romanzo Addio alle armi. Però, questo Jack va incontro ad una notizia drammatica per lui, cioè quella che la ferita di guerra gli ha portato all'impotenza sessuale. E questo è una sorta di trauma, una sorta di paura che vivono gli uomini in quel periodo, così strano, ma anche così fecondo. Infatti, dice un certo studioso Fiddler, l'impotenza è il risultato di una generazione di soldati feriti e di una generazione in cui donne come Brett hanno ottenuto l'emancipazione. Infatti, paradossalmente, i drammi della prima e della seconda guerra mondiale, per converso, hanno dato modo alle donne di dimostrare la loro autonomia, la loro indipendenza. Ciao, fra. Ciao, ciao. Grazie per i vostri coricini. Hanno dimostrato le donne di poter sostituire gli uomini, ad esempio nelle fabbriche, in maniera molto efficiente e quindi l'uomo che probabilmente fino alla prima guerra mondiale ha sempre ritenuto di essere superiore alla donna, adesso si fa, comincia a farsi qualche domanda, sorge qualche dubbio, insomma. lui, Hemingway, ha amato la Spagna, la sua cultura, ci è andato negli anni 20, ci è andato appunto negli anni 30, come abbiamo detto, durante la guerra civile e ci è tornato ancora dopo e ha conosciuto Toreri per tutta quanta la sua vita. Adesso ne approfondiremo il discorso. Ecco, dicevamo infatti che lui è ritornato nel 1937 in Spagna durante la guerra civile ed era un corrispondente di guerra e sicuramente aveva scelto il partito diciamo repubblicano, era dalla parte dei repubblicani. Ciao, Cracconi, ciao, ciao, Giovanni Meleforte, un grande compagno di mio figlio, sei tu Giovanni. Bene, il romanzo che gli ha dato fama è stato appunto questo, The Sun Also Rises, Fiesta, il titolo in spagnolo e appunto in italiano, del 1926. Il libro fece fatica ad essere pubblicato, per esempio le prime case editrici cui lui lo sottopose lo scartarono perché c'erano molte critiche morali alle sbornie, le sbornie di Jack e dei suoi amici al mattino, al pomeriggio, alla sera, senza limiti. Bello il Vecchio e il Mare, assolutamente. Anche il Vecchio e il Mare è un altro romanzo di Hemingway che abbiamo già recensito. Ecco, era molto criticato questo romanzo anche per le facili e molteplici avventure amorose e per lo stile troppo asciutto che sconvolse un po' i lettori che erano abituati magari alla prosa d'arte in quel periodo là. Se ne fece un film di questo romanzo che si intitola appunto The Sun Also Rises Il Sole Sorgerà Ancora in italiano che ha per protagonista Tyron Power il padre di Romina Power nel ruolo appunto di Jack Ava Gardner una stupenda Ava Gardner nel ruolo di Ashley Brett Mel Ferrer se non sbaglio nel ruolo di Robert Cohn Errol Flynn se non sbaglio nel ruolo di Mick il fidanzato di Ashley Brett e poi altri importanti artisti tra cui Juliette Greco che ha un ruolo di una sostanzialmente di una donna facile diciamo così di una prostituta. C'è qualche problematica comune tra Ungaretti e Hemingway la prima guerra mondiale senz'altro tuttavia c'è un'enorme differenza perché per Ungaretti la guerra e la morte è una specie di abisso dal quale risalire mentre per Ernest Hemingway la guerra e la morte è qualcosa di importante insomma che rimane fondamentale nei suoi testi letterari e non non se ne esce per arrivare ad una dimensione che ne so diversa spirituale più alta ma si continua diciamo nei romanzi nei testi di Hemingway a insistere molto su questi aspetti della violenza e della guerra mentre è come se Ungaretti volesse liberarsi in un certo senso da questa esperienza ecco qui i manifesti pubblicitari di questo film che è venuto del 57 è una specie di caricatura dei personaggi principali che sono appunto questo Robert Cohn che è un amico di Jack di origini ebraiche qui dobbiamo dire che in un certo senso non è che per gli ebrei spesso nelle battute insomma del romanzo ci siano battute lusinghiere anzi un po' di antisemitismo strisciante forse era imperante non solo in Germania dovete saperlo ma anche in Inghilterra e negli Stati Uniti però insomma era comunque un amico di Jack Robert Cohn che si dilettava di box di Pugilato poi abbiamo Lady Brett la nostra donna attorno alla quale ruotano tutti gli uomini praticamente che vedete in questa slide quindi il torero Pedro Romero Bill Gorton che è quello forse che ha meno possibilità insomma presto Lady Brett e poi soprattutto Mike Campbell per via dei soldi che ha perché insomma era danaroso Mike Campbell e per questo lo stava per sposare Ashley Brett allora quali sono i principali personaggi di Fiesta Jake Barnes anzitutto il narratore protagonista del romanzo personaggio ovviamente veratamente autobiografico ha prestato servizio nella prima guerra mondiale e ha subito un infortuno di guerra simile a cui di Hemingway che ha lasciato però Jake Barnes impotente forse si tratta di una paura diciamo così che ha vissuto in prima persona Hemingway che poi ha avuto quattro moglie bene Jake Barnes lavora come giornalista a Parigi per un giornale insomma del Canada proprio come Hemingway lui e i suoi amici o per il New York Herod forse non ricordo bene forse per un giornale americano non canadese comunque diciamo sono poche diciamo le differenze esistenziali fra Jack e Hemingway lui e i suoi amici trascorrono la maggior parte del loro tempo a bere e a fare festa si beve di tutto dal vino champagne senza altro ostri che sono tra le preferite all'assenzio quindi liquori alla birra Jack è innamorato di Lady Brett Ashley come tutti gli altri uomini del resto del romanzo Lady Brett Ashley è una bella donna britannica che beve molto anche lei moltissimo molti uomini sono innamorati di lei e lei ha relazioni con molti di loro ama Jack ma non è disposta a rinunciare a tutto per stare con lui e si sta godendo un po' la vita e la giovinezza tra Francia e Spagna Ashley Brett Robert Cohn è uno scrittore americano che vive a Parigi come appunto i tanti amici che ha avuto Hemingway e probabilmente rispecchia uno di essi è un espatriato americano insieme alla maggior parte degli altri personaggi è ebreo non ha partecipato alla prima guerra mondiale anche Robert è innamorato di Brett e cerca disperatamente di mantenere gli ideali del romanticismo del periodo che aveva preceduto la prima guerra mondiale ha una scappatella con Brett a San Sebastian e si illude che questo possa significare aver conquistato il cuore di Brett ecco Cracconic purtroppo non conosco gli autori gli scrittori e neanche diciamo questo esperto di filosofia di cui tu mi stai scrivendo Pedro Romero è un bellissimo torero di 19 anni 22 anni nel film comunque giovane giovanissimo fa da contraltare a Jack e a tutti quanti i suoi amici perché si comporta con sicurezza e dignità in ogni momento nel mondo della mascomunità corrotta degli impotenti del dopoguerra è l'unico personaggio maschile che rimane un simbolo di forza e di purezza e visto come l'uomo ideale nel romanzo incarna come vedremo gli ideali e i valori della Spagna storici diciamo così della Spagna come mai il romanzo si intitola Fiesta in spagnolo e in italiano perché diciamo che tutta la seconda parte del romanzo si svolge a Pamplona nel corso della fiesta di San Firmino la corsa dei tori a Pamplona Spagna si tratta di una specie di settimana molto complessa che comincia con uno sparo di un fuoco d'artificio poi appunto con questo spostamento dei tori corsa dei tori per cui tanti giovani sfidano questi tori si mettono a correre per le strade di Pamplona inseguiti dai tori alcuni anche vengono raggiunti tra l'altro da questi tori e poi si conclude con le corride nell'arena certo è anche una festa religiosa come vedremo magari da qualche diapositiva seguente come no questa no questa invece è una diapositiva che ci rappresenta un toro da combattimento spagnolo che pesa tra i 500 e i 700 chilogrammi quindi pesa quanto 8 uomini adulti forte aggressivo le sue corna sono più lunghe di quelle di qualsiasi altro tipo di toro molto muscoloso fortemente territoriale disposto quindi a difendere il proprio territorio anche a costo di ammazzare tutti quelli che gli capitano per le corna diciamo ecco mettiamola così ecco vediamo adesso una delle fasi di questa fiesta di San Firmino che è quella della processione ricordiamoci infatti Pamplona quindi si trova nel nord della Spagna ricordiamoci che la fiesta di San Firmino come dice lo stesso nome è anzitutto una festa religiosa e ovviamente la cattedrale di Pamplona è dedicata a questo santo riesci a immaginare di liberare un buon numero di questi tori in una strada follata ti sembra follia ebbene questo accade a Pamplona nel nord della Spagna a luglio sempre è una festa tradizionale una delle più conosciute magari avrete visto qualche servizio televisivo ecco qui vedete proprio un fotogramma di questi tori ci sono i manzi i tori che vengono liberati per le strade di Pamplona e ci sono dei giovani ecco diciamo che questa festa si svolge da più di 100 anni ecco nel centro nel cuore di Pamplona per queste strade anche non molto grandi quindi un po' di vicoli in cui non sempre insomma i giovani riescono a scansare queste tremende corna la corsa dei tori in spagnolo lenzierro coinvolge centinaia di persone che corrono davanti ai tori lungo un tratto di mezzo millo di strade strette di una sezione del centro storico di Pamplona deve avere almeno 18 anni però ed essere fisicamente in forma per poter partecipare a questa corsa devi dimostrare di essere in grado di scappare insomma essere piuttosto in forza agile per scappare di fronte a questo rischio tremendo sono sempre tantissimi i feriti e ahimè certe volte anche qualcuno insomma che ci rimette la pelle in questa festa la corsa termina nell'arena di Pamplona in un tempo medio di circa tre minuti i tori i manzi eccetera partono dal loro luogo di partenza e raggiungono l'arena lì i tori sono tenuti fino alla corrida pomeridiana in cui vengono uccisi le corse dei tori si svolgono tra il 7 e il 14 luglio adesso approfondiremo il discorso di questo vengono uccisi che adesso qui adesso appena appena accennato ecco qui vedete per esempio un altro fotogramma di questa di questo insierro di questa corsa dei tori e di come sfiorino davvero queste corna questi giovani l'evento inizia alle 8 del mattino quando viene acceso un primo petardo per annunciare il rilascio dei tori dal loro recinto i corridori però si radunano già prima ben prima sin dalle 6 del mattino all'inizio dell'itinerario si tratta ovviamente di qualcosa di estremamente pericoloso dal 1925 15 persone sono state uccise durante l'evento l'ultima il 10 luglio del 2009 ogni anno tra le 200 e le 300 persone rimangono ferite durante la corsa sebbene la maggior parte delle pesioni siano contusioni dovute a cadute e non siano gravi ecco qui avete invece un po' il vestito di questo giovane che sfida il toro e quindi la descrizione di uno di questi corridori caratterizzato da un cappello rosso e anche una specie di fascia che si che si mette attorno al collo che si chiama pagnoelo e anche da altri indumenti c'è praticamente un'altra fascia sulla pancia che è rossa e tutto il resto è bianco ecco è chiaro che tutte le cose che vi ho appena detto danno modo di riflettere sulla corrida un argomento che è molto dibattuto e discusso secondo le associazioni animaliste e più in generale secondo tutti i detrattori della pratica della corrida la corrida è una tortura legalizzata inflitta al toro senza alcuno scopo sono il gusto del sangue perché poi questi tori muoiono gli appassionati di tauromachia e quindi di corrida al contrario rimettano che un toro da corrida vive un'esistenza molto più lunga e felice rispetto a un bovino da carne o da latte inoltre l'economia legata alla corrida è ecosostenibile e crea ricchezza proteggendo l'ambiente questi sono i due partiti principali che si schierano l'uno contro l'altro da una parte abbiamo per esempio cantanti musicisti intellettuali che hanno scritto canzoni dalla parte del toro contro la corrida lo stesso Caparezza per esempio esultando della morte del torero gioendo per la salvezza del toro esplicitando il proprio pensiero favorevole all'abolizione della corrida dall'altra parte abbiamo i difensori di questa pratica il 28 luglio del 2010 il Parlamento catalano ha messo però fuori legge le corride a partire da 2012 approvando una legge di iniziativa popolare firmata da oltre 180.000 cittadini ma il 21 ottobre del 2016 il Tribunale Costituzionale spagnolo ha annullato la legge catalana perché i catalani si sarebbero ingiustamente attribuiti le competenze dello Stato confermando che la corrida del Toros fa parte del patrimonio culturale e deve essere garantito e preservato ecco qui abbiamo fatto accenno solo ad una legge ma ce ne sono state altre di abolizione delle corride è chiaro però che questo come avrete ben capito si inserisce certe volte anche in certe dinamiche politiche che ben conosciamo ad esempio le dinamiche politiche dell'autonomismo catalano che tende a smarcarsi a distinguersi rispetto al potere centrale spagnolo il 12 novembre 2013 la Tauromachia che comunque lo dice lo stesso nome che è di origine greca ha origini lontane nel tempo sapete infatti che i greci addirittura i cretesi amavano gli spettacoli acrobatici diciamo con i tori e appunto la pratica della Tauromachia era conosciuta dai greci pensate a Minosse tutto che la compone così come il suo patrimonio le tradizioni e la cultura legate al toro nonché gli eventi artistici e culturali comprese le corride sono stati protetti e dichiarati patrimonio culturale attraverso la legge numero 18 del 2013 ovviamente Hemingway è tra i più strenui difensori del valore storico della corrida cui ha dedicato interamente due testi morte nel pomeriggio del 1932 è un'estate pericolosa scritto tra il 59 e il 60 in cui ha parlato di una specie di quasi di duello fra due toreri questo è stato pubblicato postumo un'estate pericolosa ha accennato alla corrida però anche in Per chi suona la campana pur essendo la guerra civile il tema principale di quel romanzo e ovviamente anche in Fiesta pur essendoci anche la tematica degli espatriati a Parigi almeno in metà di questo romanzo però su questa tematica ho già ampiamente discusso nella insomma dicevo in quella diretta live che era già una delle mie prime dirette live su Festa Mobile Per Hemingway la corrida è un'occasione per riflettere sul senso della vita e della morte e per riflettere sull'arte perché per lui c'è qualcosa di artistico non abbiamo visto i grandi pupazzi che si trovano che vengono che sfilano volevo dire durante la processione della Fiesta di San Firmino però per lui l'arte è quella l'arte dei toreri l'uccisione del toro diventa per Hemingway una vera e propria manifestazione dei sublime il torero non è già un mattatore vile e brutale ma rappresentante ultimo dei valori dell'onore e della virtù maschile esemplificati dai gesti e dal rituale del disprezzo del coraggio con cui egli sfida la morte accostandosi ad essa e ne emerge vincitore acquistando una vera e propria immortalità cracconica io adesso faccio il preside di lavoro però come vedi ho sempre l'anima di professore e nelle mie circolari mi firmo professore comunque una slide che ho aggiunto io a quelle riflessioni precedenti sulla corrida che sono prese un po' anche da Wikipedia senza altro però questo lo scritto io comunque a prescindere dall'indubbio valore culturale e storico della corrida resta il fatto che sia Hemingway sia il pubblico spagnolo e non spagnolo della corrida condivide con il pubblico dell'antica Roma degli spettacoli dell'arena il gusto dell'emozione degli spettacoli estremi nei quali è presente il sangue anzi deve esserci il sangue questi spettatori della corrida si arrabbiano con i toreri quando sono troppo lontani dal toro quando non rischiano abbastanza tale gusto o almeno il rischio della sfida della morte si può intravedere anche in tantissime altre manifestazioni sportive o parasportive odierne e non è sempre così giustificabile a mio parere bene attenzione adesso in quest'ultima parte del mio contributo avremo una riflessione sul libro Fiesta se tutto quello che vi ho detto finora è stato più che sufficiente per incuriosirvi e per farvi leggere questo libro vi fermate qua sappiate che da adesso in poi dirò delle cose insomma che anticipano insomma quello che magari potrebbe magari qualcuno vorrebbe godersi così leggendosi il libro da solo potrete sempre tornare a vedere questa diretta live indifferita magari alla fine della lettura del romanzo quindi parliamo adesso dell'intreccio di The Sun Also Rises Fiesta Fiesta parla di Jack e dei suoi amici che trascorrono la maggior parte del loro tempo a bere e a fare festa decidono di fare un viaggio in Spagna da Parigi infatti Robert Conn dice andiamo insieme in Sud America no Ernest Hemingway scusate Jack Barnes che però è al trego di Ernest Hemingway gli dice di no no però in Spagna si qui incontrano il torero Romero durante la festa di San Firmino a Pamplona i personaggi del romanzo gli uomini in particolare lottano per adattarsi ai nuovi ideali del dopoguerra e anche per conquistare l'amore di Ashley Brett Fiesta è un'espressione che condensa il vitalismo dei giovani della generazione perduta non a caso l'altro romanzo omologo a questo sarà chiamato Fiesta ancora invece l'altro titolo è un'espressione che proviene da un versetto della Bibbia che si trova all'inizio del film e alla fine del romanzo il titolo sottolinea il motivo del viaggio che Jack e Brett intraprendono in Spagna un viaggio che sperano possa trovare un significato in un mondo che sembra assurdo e incontrollabile una generazione passa un'altra le viene appresso e la terra sta sempre il sole nasce tramonta e ritorna al suo primo posto e lì tornando rinasce ecco questi sono dei versetti versetti 4-5 tratti dal libro dell'Ecclesiaste della Bibbia e sono quelli che hanno ispirato questo titolo i temi li abbiamo già visto ecco la tesi è che in Fiesta Ernst Hemingway tenti di ritrarre l'uomo del dopoguerra con tutte le sue insicurezze ecco un fotogramma del film con Ava Gardner nei ruoli di Ashley Brett e Tyron Power nel ruolo di Jack Barnes deve essere stato piacevole per lui vederla così adorabile e sapere che era stato via con lei e che tutti lo sapevano ah sì quando Robert Cohn ha la sua scappatella con Ashley Brett si vanta di questo Ashley Brett è adorabile veramente e tutte le volte che qualcuno un po' la conquista momentaneamente però se ne vanta con gli altri questa affermazione dimostra il fatto che gli uomini provano un grande senso di soddisfazione dopo aver semplicemente dormito o avuto una notte d'amore con Brett o con belle donne in generale in un certo senso credono che questo dimostri la loro mascolinità accresca la loro immagine e dimostri che non sono impotenti Robert si inorgoglisce dopo aver dormito con Brett a San Sebastian questa sensazione di soddisfazione fornisce a Robert una ragione per pensare a se stesso come un uomo vivile ma il torero non ha bisogno di questo per dimostrare la sua virilità Brett afferma che trasforma gli uomini in porci Ashley Brett esplicitamente nel romanzo Fiesta viene accostata a Circe che nell'Odissea era una maga che trasformava gli uomini in maiali questa allusione classica alla mitologia greca indica che Brett è seducente e manipolatrice nei confronti degli uomini e riduce coloro che la amano ha uno stato animalesco Robert nota che Brett ha un'influenza negativa su di lui tuttavia sembra ancora inseguirla come un manzo come quei manzi che inseguono i giovani nell'ensierro della fiesta di San Firmino gli uomini si rendono conto che Brett è in definitiva irraggiungibile tuttavia sentono ancora il bisogno di provare a conquistarla per dimostrare la loro virilità ma nessuno di loro la conquisterà qui vediamo un fotogramma di Ernest Hemingway che come potete ben vedere capire e intuire tornò più e più volte nell'arena spagnola a godersi perché lui godeva di questo spettacolo della corrida anche dopo la seconda guerra mondiale Romero ecco Romero il torero non ha mai fatto contorsioni è sempre stato detto puro e naturale gli altri gli altri toreri per esempio si torcevano come cavatappi i gomiti si alzavano si appoggiavano ai fianchi del toro dopo che le sue corne erano passate per dare una finta occhiata di pericolo in seguito tutto ciò è stato simulato quindi è diventato cattivo ha dato una sensazione spiacevole cioè il torero diventa un grande torero applaudito quando dimostra il suo coraggio e quindi gli altri toreri cercano in tutti i modi di avvicinarsi al toro ma quando ormai le corna sono passate al contrario invece Romero si avvicina in maniera estremamente rischiosa però così virile senza fare contorsioni questa purezza e autenticità di Romero contrasta nettamente con la superficialità della generazione perduta di Jack le abilità autentiche di Romero e l'impulso a combattere gli danno uno scopo nella vita che manca ai membri della generazione perduta loro cercano disperatamente qualcosa che Romero ha già naturalmente in sé cioè incarnare gli ideali valori di un popolo lui Robert è follemente inarrato di Brett con la quale ha avuto una fuga romantica non riesce a credere che la loro momentanea storia d'amore d'amore non significasse nulla Con Robert Con crede che il matrimonio e il sesso siano inestricabilmente legati all'amore ciò diventa chiaro quando Con dice a Jack non credo che Brett sposerebbe qualcuno che non ama tra l'altro Con poi sposa una donna che invece lo lascia lo delude insomma il romanzo inizia affermando che Robert Con era un tempo campione di box dei pesi medi di Princeton perché era un ebreo e voleva in qualche modo sfogare la rabbia dell'emarginazione cui era relegato a Princeton e questo è importante per il fatto che sebbene Robert sia fisicamente forte le sue conoscenze prebelliche per esempio oppure romantiche lo fanno sentire insicuro si sta aggrappando ideali romantici ottocenteschi che non sono più rilevanti durante il suo soggiorno post bellico in Europa nell'Europa del Novecento si aggrappa ancora a valori del secolo precedente l'indipendenza di Brett d'altra parte ha implicazioni molto reali per i suoi rapporti con gli uomini del romanzo scusate queste sono un po' però osservazioni di studiosi quella su Robert Con per esempio di un certo Franzen mentre quest'altra su Brett è di Cannistraro Ashley Brett non vuole essere controllata è una donna Ashley Brett e vuole vivere liberamente tuttavia questo causa litigi tra gli uomini del romanzo considerando che tutti vogliono la totale attenzione di Brett e quindi soffrono di gelosia l'uno con l'altro l'uno contro l'altro e Robert Con si sfoga anche con la sua tecnica pugilistica contro alcuni di essi lo stesso Jack e il torero Romero la supremazia della donna di Brett oggi può sembrare normale tuttavia negli anni 20 questo comportamento era molto raro non si vedeva nella società e stava nascendo sorgendo allora in base anche a delle condizioni storiche che stavano permettendo la nascita di questa autonomia della donna il suo potere il potere di Brett e il suo rifiuto perché alla fine rifiuta l'uno rifiuta l'altro fanno sì che Jack e il resto dei personaggi maschili si sentano evirati impotenti Brett è superiore è molto indipendente e forte questo fa sentire Jack particolarmente intimidito e insicuro quando lei nega la loro relazione quando lei dice non posso stare con te lui si sente insicuro ripeto sono delle tematiche è stato un profeta molto moderne e contemporanee queste ma all'epoca veramente innovative scusate ho terminato la benzina peccato perché sono indirittura d'arrivo io sono così ho una certa autonomia che però poi dopo termina pazienza Ernest Hemingway presenta al pubblico personaggi maschili insicuri per dimostrare come la condizione psicologica del nuovo maschio sia cambiata dopo la prima guerra mondiale il modo principale con cui i personaggi cercano di mostrare la loro virilità è attraverso il tentativo di raggiungere Lady Brett Ashley alla fine Brett è irraggiungibile e questo approfondisce ulteriormente le insicurezze degli uomini sulla loro virilità il romanzo e qui ve lo devo dire ormai siete arrivate fino a questo punto risulta quasi troncato incompiuto e non soddisfa che nessuno riesce a raggiungere questo oggetto del desiderio sappiamo che sin dai romanzi cortesi medievali la donna è oggetto del desiderio che alla fine comunque o dall'uno o dall'altro o dall'altro o dal protagonista o generalmente o meno generalmente dall'antagonista viene raggiunta invece Ashley Brett no e quindi così rimane il finale sospeso con questa frase biblica insomma che ci rappresenta la ciclicità da vita della storia e anche l'impossibilità insomma di raggiungere spesso i propri sogni i propri desideri andiamo alla fine a leggere alcune cose che sono state scritte sulla chat di youtube ben rivisto Antonella live in genere a giorni alterni tutto l'anno io sono un tipo che boh non so se voi lo sapete però ero abituato a fare video con una certa frequenza tantissimi tantissimi e quindi farne uno ogni due giorni per me è una media assolutamente accettabile mercoledì farò un video per esempio che si intitolerà così terza pillola del canto di Dante e quindi in questo video vedremo che continuerà insomma il cammino di Dante è un estratto da un mio spettacolo che si intitola appunto il canto di Dante che è originalissimo che si tratta di un uno spettacolo di un modonlogo teatrale musicale con i versi di Dante musicati dal sottoscritto poi ci ritroveremo venerdì con un incontro sulle monarchie europee nel cinquecento un incontro di storia moderna e via discorrendo andiamo avanti a proposito di Parigi la Francia era allora un centro culturale assolutamente sì negli anni venti Parigi era una capitale dell'arte della cui abbiamo parlato di Picasso di Miró della cultura della letteratura e c'erano quindi a Parigi non solo grandissimi scrittori francesi ma anche inglesi e americani cosa si intende per centro culturale centro della cultura allora era Parigi grazie Maria Carmela per i tuoi tuoi ringraziamenti complimenti allora addio le armi l'ho già recensito quindi basta cercare su youtube e scrivere addio le armi Gaudio e mi torno modernismo inglese sarebbe quello che in Italia e in Francia noi chiamiamo decadentismo se sì quali sono le differenze fondamentali beh diciamo che il modernismo rappresenta qualcosa di novecentesco più nettamente novecentesco mentre il decadentismo è a cavallo fra ottocento e novecento il modernismo si spinge più in là soprattutto poi la narrativa di Ernst Hemingway avrà influssi su tutta quanta la narrativa del novecento americana e no i suoi studenti sono fortunati bene grazie anche se come stavo spiegando prima adesso ho tanti studenti 1300 ho 1300 studenti però non sono più un professore sono un preside poi poveri tori ecco Iuris va al cuore del diciamo del dibattito di cui abbiamo parlato prima ricordiamo infatti che tutto un rito un rituale particolare attraverso il quale durante la corrida abbiamo non solo i toreri ma anche i picadores quindi praticamente dei giovani magari anche a cavallo che hanno una lancia una picca e che feriscono e colpiscono sul collo i tori questo Hemingway la corrida il sangue la morte il vizio la bella vita da persona benestante che ha vissuto il volontario come croce rossino di guerra non ne ha fatta mai quindi qualcuno esprime dei dubbi su Ernest Hemingway io ripeto ho voluto solamente darvi degli spunti e lascio poi a ciascuno di dare dei giudizi ancora da Iuris alla fine sono dei libri certo descrivono la vita mondana dei libri come quelli di Gustave Gustave Flaubert oppure poesie come quelle decadentiste simboliste insomma di Charles Baudelaire alla fine erano tutti una brutta fine si vede che ci soffriva per tutto ciò insomma si vede che ecco anche dal libro Di là dal fiume e tra gli alberi racconta di un uomo debole dietro la giovinetta ad una giovinetta e poi muore solo un po' squalidamente il protagonista di Di là dal fiume e tra gli alberi quindi Iuris che inveiva un po' contro il gusto del sangue diciamo così anche di Ernest Hemingway alla fine però riconosce che può darsi che ci sia stata quella brutta fine quel suicidio diciamo per il 90% degli studiosi anche perché lui ha sofferto molto per tutto quello anche che ha descritto nei suoi testi bene io vi ringrazio tantissimo per questa bellissima diretta che c'è stata stasera sono preside da dieci mesi dall'inizio di marzo del 2020 ecco dicevamo quindi che vi invito a partecipare alla prossima diretta che sarà molto molto più breve perché è una pillola del canto di Dante quindi mercoledì 13 gennaio ci incontreremo per una decina di minuti a dir tanto massimo un quarto d'ora mentre invece venerdì avremo una lezione sulle monarchie 500 comunque non una lezione lunghissima sarà una mezz'oretta di lezione e poi via via ci incontreremo un giorno sì un giorno no quindi domenica sera martedì prossimo giovedì prossimo eccetera quindi a giorni alterni benissimo adesso vi saluto caramente simpaticamente e affettuosamente ciao a tutti e grazie per la vostra partecipazione anche insomma molto gradita da me per tutte le cose che avete anche scritto mille grazie anche per le risposte alle domande bene sono contento è molto più stimolante così rispetto a quello che ho fatto per 12 anni io ho fatto video su youtube in maniera solo asincrona solo a casa riesco l'anno dei video registrati in classe o audio registrati in classe mettendo delle slide senza mai fare streaming diretto eccetera grazie Simone anche a te sono contento di essere stato insomma come tu mi dici gentile ed esauriente perché ci temo bene vi saluto allora ciao ciao alla prossima quindi mercoledì alle 20.45 ciao ciao